...una visione particolare da adottare per tutelare la sua salute la procura generale di Milano intanto è pronta a dare il parere negativo all'istanza di detenzione di ufficine rappresentata dalla difesa dell'ex numero uno di lapirellone la procura di Roma ha aperto un fascicolo per ora contro i gnocchi dell'ex ambasciatore nordcoreano Song Jill tornata a casa il 14 novembre mentre il padre ha disertato per dire se la giovane si è partita a volontà grazie